Amici di Motofan, eccoci arrivati all'appuntamento sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Misano, Gran Premio di San Marino, gara attesissima perché veniva dopo l'eccezionale spettacolo ritrovato nel duello Pedrosa-Lorenzo a Bernò. Purtroppo lo spettacolo a Misano è mancato, se gli attori e i protagonisti sono solo due, è bastato questo inspiegabile, incredibile problema alla ruota anteriore per Pedrosa che nella seconda partenza ha dovuto partire dietro, è stato centrato da Alvaro Bautista e quindi gara noiosissima per la vittoria, molto bella per quello che è riuscito a fare Valentino Rossi grazie forse ai test che aveva fatto a Misano o al nuovo telaio o a un animo più leggero dopo che ha firmato con Yamaha. Quindi Valentino che ha infiammato il pubblico, pubblico che non è mancato all'appuntamento di Misano, un piccolo segnale d'allarme c'era venuto dal Mugello, qui rientra, c'è un calo fisiologico dovuto alla crisi economica ma niente crisi per questa grande MotoGP, sfortunato, dovizioso, beffato al photo finish ma ha finalmente conquistato un podio Gresini, ovvero sia il suo pilota. Quindi un Bautista decisamente in forma e desideroso di riconfermarsi nel team di Fausto. Male per gli altri, molte scivolate, molte cadute ma nessuno aveva il setup giusto visto che non ci sono stati quasi mai turni asciutti. Bene Rea è rimasto in piedi, ultima della MotoGP però è arrivato in fondo e speriamo che rientri presto Stoner per riportare almeno a tre il livello dei protagonisti di questo mondiale che ritorna ora verso Lorenzo ma basta che Lorenzo faccia un altro errore e si riapre il panorama di questa cilindrata che aspetta Valentino il prossimo anno in sella alla Yamaha.